Il falco è tornato a volare sulla sua Enego. A pochi giorni dal rientro dal Tour de France, puntuale alle 8, Andrea Pasqualone era pronto a montare in sella per l'allenamento quotidiano, ma la giornata è dovuta cominciare dalla fine, ovvero dai festeggiamenti e dagli abbracci. Una festa a sorpresa. Il falco è stato accolto in piazza San Marco da amici e familiari dalla Enego Marcesina. Un rientro importante il suo, il ritorno dal primo Tour de France, che lo ha visto protagonista insieme ai grandi big del ciclismo, esplosivo e resistente nelle volate o in montagna. Andrea Pasqualone, emozionato nel vedere l'affetto e il calore della sua gente, ha brindato e cantato con gioia per rendere onore alla fatica fatta per raggiungere l'ambito traguardo di Parigi.